Buongiorno a tutti bentornati al canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora prima di partire col video facciamo un bel summit se non ci si capisce niente. Allora il video precedente è quello di Grunwald questo qua ecco qua lo ricordate? Quel video faceva parte di quando siamo stati tutto il mese di giugno dal 1 di giugno al 30 di giugno nella zona di Grunwald. Ve l'ho caricato adesso perché purtroppo troppi inconvenienti, troppi imprevisti, poco tempo per editare e fare il video e quindi ve l'ho messo nel mese di luglio. Fine del riepilogo. Altro piccolo riepilogo alcuni ancora mi stanno a chiedere ma stai ancora in Indonesia o dove stai? Ragazzi sono in Germania sono in Europa quindi mo dal primo di luglio fino a fine di questo mese ci siamo a Unterhacking. Questa è la mappa di Unterhacking che sta nella zona sempre diciamo 20 minuti 25 minuti circa dal centro di Monaco. Mo se spara ma la sigla voi mettetevi copio come al solito. Situazione di piogge e inondazioni diciamo che nella zona di Monaco qui non è successo niente di grave. Oggi ci sta un bel sole, ci stanno 3-4 giorni di sole quindi speriamo che tutta la situazione si rimette a pace. Mi raccomando perché non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, Instagram, YouTube è questo qui come al solito, TikTok e TrickBallac come al solito. Partimo col video. A ufan che hallo qui a Monaco, mamma mia, amo che che hallo. Ciao. Allora qui siamo sulla strada principale, questo è l'hotel dove siamo noi, questa è la via principale del terahacking. Vedete? Sotto abbiamo il penny. Vedete c'è il supermercato proprio sotto. Qui giù c'è la fermata dell'auto proprio qui e invece giù in fondo a 500 metri qui c'è la S-Ban, il treno quello regionale. Ecco qua. Ora attraversiamo e andiamo dentro. Questa è la fermata dell'autobus 12-17, 220, 2-21 e 2-24 che vi portano nella zona della metropolitana col 2-17. Allora questa è l'entrata, come vi faccio vedere, tacchettiamo qui, qui c'è l'ascensore, saliamo qui le schiale, questo è il nome, Hotel de Mas Garni. Moquette, stile, è un po' antica ma va bene. Andiamo al primo piano, vedete se andate sotto, si c'è la zona garage, ascensore e la sauna. c'è pure una piccola palestra che adesso ovviamente è chiusa a causa Covid. Quindi questa è l'hall, questa è la zona reception, questa è la zona attesa, qui c'è qualche souvenire, divanetto, qui c'è per fare la colazione, ovviamente adesso è chiuso. E ora vi faccio vedere, arriva in camera che tocca fare, tenetevi pronti. Quindi primo corridoio, qui c'è tutto aperto. C'è l'arrivo della nostra camera che è un po' Drick Ballack, è un po' difficoltosa se siete stanchi. Quindi passate tutto al corridoio, qui girate a destra, poi giriamo a sinistra, qui saliamo sopra, salite, andiamo sopra, qui tocca girare a sinistra e poi girate anche a destra. Questa è la camera nostra. Montriamo dentro, taglia. Allora eccoci qua, qui il posto è abbastanza stretto, quindi lo devo far vedere così. Questa è la porta d'entrata, siamo entrati da qui, chiusa la porta. Qui c'è il nostro solito specchione large size, ecco qua, abbastanza grande, qui sotto zona ripostiglio scarpe appena entrate. Qui abbiamo l'unico armadio disponibile, eccolo qui, ora vi faccio vedere, che è molto stretto, quindi c'è uno, uno, due, e questo altro scomparto che ho messo le valigie, più qua sopra scatoloni e altre valigie varie, se no ci entriamo qua dentro. Altro piccolo scomparto, due ripiani, qui sotto c'è un po' di cagnara, scarpe varie e via dicendo. Questa è finita la zona ripostiglio. C'è sta piccola zona per appoggia la roba, che dove c'era la macchinetta per far caffè, data in dotazione qui dall'hotel, con le cialde che, ecco qua, cialde caffè varie che ogni volta che fanno le pulizioni una volta a settimana, lo riempizzano. Quindi questa zona entrata. Qui che nel caso devi scappata dall'hotel, che è più a fuoco tutto, tutta la mappa, qui altre regole e poi, vabbè, faccio vedere, questa è la camera, molto piccola, la più piccola di quelle che siamo state qui fino a qui a Monaco, finora. Quindi, due sedie, questo tavolino stava in quella zona lì, però dava troppo un piccio, quindi l'hiamo appiccicato qui. Quindi due portrone, tavolinetto, medio decente, per due va benissimo, qui c'è più grossa la televisione che il tavolino, tiè. Qui ci stanno le solite prese, qui ce n'è una, telefono che chiama giù di sotto, questo è il nostro e niente, questa zona diciamo mangiatoio e studiolo e via dicendo. Due finestrone, una e due, termosifone qua di sotto, che mo' è spento se no abbiamo a fuoco, e altro termosifone pure qui, qui c'è l'affaccio giù di sotto che da sul retro, come faccio pure qui, sul retro dell'hotel, vedete? Qui siamo sul retro dell'hotel, molto tranquillo, ma riaprimo così, passiamo qui c'è la zona letto, comodino, lampione, lampione, altro comodino, letto abbastanza comodo, cuscinoni come se piovesse, come al solito, e qui c'è tutta l'ampappata di Monaco, c'è il grande poster, ecco qua sopra, quindi lampione, qui c'è anche un ventilatore, ecco qua, ma non accendiamo quasi mai, e poi qui passiamo, qui c'è l'angolo cottura, che sta dietro sta sto bardacchino, qui già ho messo un po' di roba nostra, che c'era rimasta, quello in dotazione dell'hotel, e questo pure in dotazione dell'hotel, questa è tutta roba nostra da mangiare, e mo' qui a scomparsa, c'è il, la zona per cucinare, ecco qua qua, scendiamo la luce, qui c'è pure l'aspiratore, spegnemolo, quindi microonde, zona scomparto numero 1, zona scomparto numero 2, 3, questo, questo, tutte tazze in dotazione da loro, bicchiere di birra, solido, bicchieri dell'acqua, qualche piatto qua dietro, questa è la nostra, questa è tutta roba nostra, padella antiadirente, hamburger messi a scongelare, stasera se li maniamo, macchina del caffè l'ho messa a fare stretching, che sta sempre in funzione, così si ammorba, pentolina in dotazione, quindi la zona, questo è elettrico, ma è quello così, stile old style, 1 e 2, quello grosso e quello piccolo, l'avantinetto ci può stare, va bene così, poi ci apriamo, il primo cassettino, che ci stanno forchette e un po' di roba, niente di che, qui fa appoggiare c'è altra roba, niente di che, questo è in dotazione, questo è in dotazione pure questo, questo ce l'hanno regalato, ce l'ha regalato Danny, grazie Danny, e qui c'è sta qualche poppo mindo, mi nascosto, un caso di guerra punica, vedete, se sa mai schioppa la guerra, ce l'avemo, e qui c'è il frigorifero, al solito, questo è sempre la stessa, stessa, stesso formato, qui c'è per mettere il frizz, di sotto, e via, e questo è la zona cucina, è un po' scomoda, perché vedete, qui mi arriva tipo alla panza, qui all'ombelico, e quindi se sei alto tipo un metro e mezzo, ti metti a cucinare, che stai così, capito, con la capoccia, arrivi qua, quindi diciamo che è un po' scomoda, però, diciamo che per medio, breve, medio termine, va benone, per lungo termine è un po' l'impiccio questa cucinetta, però, va bene, va bene così, dopodiché passiamo in zona bagno, bagno eccolo qui, gran finestrone, sto pareo ci avevamo messo noi, perché il sole sorge proprio da lì, alle 6 e mezza di mattina, c'è il sole che qui ti squaglia, e non ci hanno messo niente purtroppo, nemmeno una cosa, perché fa un po' scuro, quindi ci hanno messo sto coso temporaneo, quindi muricciolo, asciugamani in dotazione, chiudiamo la tazza, che non è carino, qui c'è scaffaletto, tutti i scaffaletti qua sotto, e sto ripiano qui, due prese, e sto specchione, e il lavandinetto, diciamo che per l'appoggio non è che ci sia tanto, però, ripeto, per breve e medio termine può andar bene, a lungo termine non ci siamo, e qui è che cosa che appena è l'asciugamani, questo si scalda, termosifono a muro, e poi c'è la doccia super super ridotta, che è molto piccola, c'entra una persona a malapena, che se non sta in campana, sbatti dappertutto, gran doccione, questo è il cipollone migliore di quando siamo qui a Monaco e da quando ho viaggiato, cipolla che fa spettacolare, fa una pioggia, che ora vi faccio vedere senza fracicamo, chiudiamo questo, che è quello sopra, mi pare che, ecco qua, ora vi faccio vedere un attimo, guarda, guardate che pioggia, spettacolare, poffa pioggia, migliore cipollone, lo spegniamo, sennò, se fraciciamo non sopra il macello, quindi doccia così, che si chiude a sigillo e via, c'è sia il cipollone, che questa qui con tre tacchettate cambia il coso, appoggia sciampi vari, extra, doccia molto piccola ma va bene così, grande pecca, sicuramente per motivi di struttura, se tu stai al bagno e ti arsi la mattina e stai a dormire o ti svegli da notte e non ti ricordi, qui fai così, fai così, fai down, dai una gragnata qui che ti sfondi la capoccia, che questo devi stare molto attento, o ti metti il casco e via, capito, perché sennò qui sbatti la capoccia su sto coso, o se no ti metti il casco prima di andare al bagno, così eviti fratture craniche, cestinello, spazzolino quello lì per la tazza, qui comunque la finestra si apre, ma nulla prima che tanto dà sul retro, anzi, vi faccio vedere, ecco qua, qui c'è tutto il cazzale, e quindi, ecco che qua, faccio un'inquadratura generale da qui pure, e niente, questo è dove siamo adesso, quindi niente, giro di pepe se lo siamo fatto, quarto traslogo finito, oggi 25 luglio, fine mese, venerdì prossimo, venerdì 30 luglio, ci dovremmo rispostare un'altra volta, quindi faremo un quinto traslogo, quindi vi raccomando iscrivete così non vi perdete i prossimi video, lasciate un bel like, commentate sotto, condividete con tutto il vostro ambaradam, qui sopra sul display, ve lascio l'artistudio a parte dove siamo stati in precedenza, così valutate pure, qui da Monaco del Baviera e da Marienplatz è tutto, ci vediamo al prossimo video, passo e chiudo, fill and dunk, no feedersen, e daje!